bene, cerchiamo di fare un coltello come abbiamo fatto ieri a lezione siamo partiti da un'immagine tipo questa di questo coltello l'immagine l'abbiamo su un nostro file sul nostro computer la prima cosa, entriamo avete notato che sto usando un tema che non è quello di default per averlo anche voi basta che andiate in user preferences e nei presets dei temi scegliete in questo caso ubuntu ambience questo tema omette il contrasto e facilita il lavoro successivo quindi la prima cosa che facciamo è di prendere l'immagine e di metterla come background questo in realtà ha fatto un'operazione abbastanza complessa perché ha messo la background image corrispondente al mio coltello per vederla dobbiamo andare in top ad esempio quindi facciamo 7 togliamo la perspective e vedete che abbiamo il nostro sfondo ora dobbiamo fare due pezzi quindi facciamo tab in object mode abbiamo tutti i punti selezionati del cubo che non ci interessano cancelliamo e ce li mettiamo noi i punti uno per ciascuno quindi come facciamo a metterli facciamo control tasto sinistro del mouse magari mettiamo ancora start display così li vedete anche voi e qui andiamo a mettere control tasto sinistro e seguiamo la silhouette di questo quindi questo control questo ok poi facciamo cerchiamo di seguire più o meno le curve quello che riusciamo control questo magari riusciamo anche alla grid ok e poi facciamo seguiamo il ritroso anche in modo tale che siano allineati anche in questa direzione quindi qua 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 ah qui ci togliamo un attimo questa cosa qua quindi qua ok e vabbè quello lì in realtà è l'effetto prospetti quindi possiamo lasciarlo quindi selezioniamo questo questo punto filiamo e poi a questo punto cerchiamo di filare con dei quad tutto il contenuto molto facile facciamo B innanzitutto ci accertiamo che sì facciamo B questo quad F A B quest'altro quad F A B questo quad F A A B F A B A qui mi ho messo un punto qui manca un punto che qui ci sono dimenticati di mettere e quindi come facciamo lo dobbiamo aggiungere quindi facciamo selezionando questi due punti e poi facciamo un subdivide è comparso un punto in più che è questo e lo mettiamo alla stessa altezza dell'altro ok quindi a questo punto possiamo fare F A B F A B F A ok e abbiamo questo manico no per dare al manico una forma dobbiamo mettere un modificatore di solidificazione quindi andiamo qui dove c'è il modificatore gli mettiamo il solidify e gli mettiamo il solidify che lo renda un pochino altino eccolo qua forse troppo quindi facciamo un pochino più basso per esempio così per renderlo anche un po' più morbido lungo i bordi mettiamo il bevel add modifier bevel e ce l'ha fatto un pochino meglio facciamo solo angle eccolo qua così risulta un pochino più bello e poi in object mode ah no adesso ricordiamoci ancora di fare lo shading smooth in modo tale che diventa bello smooth bello morbido e poi applichiamo i nostri modificatori tac e tac e così abbiamo fatto il nostro manico bel effetto manico adesso andiamo a cercare di fare invece la parte di sopra adesso qui vedete è solo un esempio che l'ha fatto un po' tondeggiante volendo potete farlo più aderente a quello che è come fatto quello ma lo vedete poi eventualmente voi mi interessava farvi vedere il meccanismo con cui si faceva facciamo la stessa cosa con la lama sopra quindi con la lama sopra gli dobbiamo aggiungere in object mode shift A o un qualcosa da mesh edit mode cancelliamo i vertici e poi andiamo a modellare tutto il contenuto di questa lama quindi control qua perfetto control lì contro là e poi andiamo ecco anche qua cerchiamo di rimanere paralleli quindi qua parallelo qua dove ce n'è uno qui ce n'è uno poi magari facciamo che entriamo un attimino dentro ok dentro poi shift con tasto destro questo filiamo ok diciamo che la lama è questa ok adesso facciamo sulla lama lo stesso meccanismo che abbiamo fatto sulla parte di sotto qui possiamo ancora in tempo aggiustare alcuni di questi così ok e poi facciamo quella benedetta quaddizzazione quindi facciamo B selezioniamo F A B F A B F A B F A B F A B F A B F B F A ok allora a questo punto quella lama la vediamo un attimo di lato di lato sarà 3 dobbiamo fare in modo tale che questa lama insomma sia dobbiamo selezionarlo ecco la lineiamo in modo tale che vada esattamente dentro il manico Object Mode questa la alziamo ecco quindi la lama in mezzo però diamogli un attimino di spessore quindi gli aggiungiamo il modifier che abbiamo usato prima solidify però lo facciamo non così grande come l'altro ok ci accertiamo che sia sempre al centro ecco e poi l'unica altra cosa da fare attenzione è che la lama qua sia cioè mentre l'altra parte sarà spessa di qua vogliamo fare un filo a zero qui diciamo 7 tab selezioniamo tutti i punti con control quindi facciamo control tutti i punti della lama che possono essere questi ok li ho selezionati tutti spero no perché ok quindi facciamo A li ho selezionati perché essendo diventato solido ci sono sia i punti di sopra che di sotto quindi o abilitiamo questo per selezionare anche in trasparenza oppure con z per vedere in raggi x con z ad esempio rifacciamo il mestiere contro contro mi ho detto ok mi ho selezionato tutto facciamo quindi mi ho selezionato tutti quei punti ah si qui non si vede perché dobbiamo applicare prima di fare questa operazione dobbiamo applicare il modificatore che gli ho messo quindi z apply ok e a questo punto ripetiamo la selezione ce l'ho ancora selezionata e facciamo s z che è quello e facciamo selezioniamo in modo tale che vadano a 0 quindi anche 0 in via quindi in questo modo vedete che la lama è ben costruita cioè quantomeno è una lama che è affilata diciamo che qui è praticamente tutto già fatto vedete che ha prodotto anche un po' un effetto qua che magari va anche bene non c'è nient'altro di particolare da dire nel senso che questo è già il coltello eventualmente lo potete metterlo bene lo potete fotografare e fare quello che volete quindi se noi questo coltello lo fotografiamo F7 vedete che ha già una sua pervenza volendo possiamo aggiungerci un po' di materiale attorno e facciamo un po' anche la seconda parte che abbiamo fatto un'altra volta per esempio io volevo fare che avesse un colore diverso il manico che magari non è proprio acciaio è fatto di un'altra sostanza un'altra lega quindi questo si può farlo andando in object mode qua andando sui materiali e gli ho messo ad esempio un materiale rosso si può mettere quindi il suo diffuso e lo facciamo rosso rosso possiamo farlo così ok bel rosso però lo vogliamo fare in modo tale che abbia una che rifletta in certo modo vabbè qui la durezza e tutte queste cose ma magari che abbia anche un briciolo di mirroring mirroring quindi facciamo mirorare un po' di cose ok e invece questa cosa qua lo facciamo anche lei con un materiale quindi facciamo un materiale però questa volta il materiale lo facciamo tipo grigio e gli mettiamo però un fattore di specchio molto alto in modo tale che possa specchiare le varie cose per vedere cosa è successo facciamo f12 si sta specchiando ma non si vede niente quindi per riuscire a capire qualcosa occorre avere o delle luci ambientali oppure come ho spiegato qualche tempo fa metterci una luce un'immagine d'ambiente questo è molto efficace quindi vi rispiego brevemente come si mette la luce d'ambiente quindi basta andare allora qui andiamo nel mondo e poi andiamo qui e gli specificiamo una nuova immagine del mondo quindi nuova immagine movie e gli cerchiamo sembra che io ci avessi delle immagini di environment e un po' tipo questa ok questa per vederla dobbiamo metterci l'influenza questa e e poi ho scoperto bisogna ancora metterci dove ecco forse da qua e abbiamo messo questo ok facendo in questo modo qua qui non vedete niente ma se andiamo nella modalità rendered vedete che si vede tutto quello che c'è attorno e quindi si vedono anche i riflessi sul nostro sul nostro cucchiaio e questo verrebbe come verrebbe se fosse fotografato ed è già un bel un bel effetto adesso qui vedete che praticamente si vede un po' così perché lì probabilmente sarebbe meglio farlo shaded per avere un perché quando quando è flat lui praticamente ogni faccia c'è una sola tinta e allora cosa facciamo andiamo in solid mode quello di prima selezioniamo il nostro oggetto gli mettiamo ci assicuriamo che sia smooth vedete che è cambiato e a questo punto il rendering di questo oggetto diventa diciamo un pochino più strano insomma adesso qui forse perfino eccessivo perché la potenza dell'ambiente cioè lui specchia forse troppo bisognerebbe mettergli un fattore di specchiamento minore però comunque l'idea è quella anche un altro modo per ridurre l'incidenza è mettergli come ho fatto lezione metterci diciamo un drappo attorno e questo come l'ho fatto l'ho fatto semplicemente disegnando quindi in object mode abbiamo fatto shift A abbiamo fatto un piano questo quindi abbiamo avvolto un pochino quindi protetto un po' con questo piano questo piano l'abbiamo edit mode l'ho suddiviso tante volte quindi gli ho messo suddivisione numero di cazza gli ho messo 100 in modo tale che sia abbastanza interessante perché non sia troppo monotono ho provato adesso andiamo siamo in edit mode facciamo A quindi tutto deselezionato ho fatto in select ho cercato di selezionare randomicamente una quantità non alta di pezzettini di vertici ho abilitato il proportional editing e ho cercato di alzare un po' queste cose qua in modo tale da generare praticamente vedete delle irregolarità adesso qui forse perfino esagerato diciamolo magari leggermente di meno ok quindi adesso è diventato tutto molto irregolare vedete molto corrugato questo è un piccolo trucco che può essere utile cosa ho fatto in più di questa cosa qua ho cercato di alzarlo insomma di fare in modo tale che si muova attorno quindi in edit mode ho fatto A ho selezionato tutto un bordo questo e l'ho alzato usando proportional editing vedete e in modo tale da ottenere praticamente di muoverlo attorno e la stessa cosa ho fatto anche di qua in modo tale da girarlo attorno ok quindi ho ottenuto questo effetto per proteggerlo un po' da tutti quei riflessi che ci sono volendo possiamo anche proteggerlo da sopra dopodiché a questo punto se rifacciamo il rendering in tempo reale questo rendered vedete che si ha già l'ombra e riflessi quindi l'oggetto riflette adesso questo più che altro è didattico per farvi vedere come ottenere questi effetti che sta riflettendo le cose allora questo piano di carta increspata non ha un materiale in realtà quindi possiamo l'unica cosa che manca in realtà è metterci questo materiale quindi selezioniamo il foglio di carta increspata andiamo nei suoi materiali dunque per andare nel materiale quindi clicchiamo prima qua gli aggiungiamo un materiale e il materiale che gli mettiamo lo facciamo di color così panna di zucchero si chiama forse quindi una volta fatto di questo colore qua gli diamo anche un pochino di attività vabbè a parte che riflette qui bisogna giocare con tutte le modalità di riflessione che può avere ma soprattutto gli diamo anche lui la capacità di fare anche un pochino di specchio e F12 ok vedete che magari lo vediamo così che è meglio vedete che abbiamo un interessante effetto cioè del coltello praticamente visto su questo su questo sfondo con lui che riflette adesso qui sembra una specie di carta stagnola ma la cosa interessante è che quindi avete visto una serie di trucchi che servono per poter rappresentare e progettare insomma dei un un bel coltello allora per questa lezione direi che è abbastanza ci vediamo la prossima volta